Ben rotolati in un nuovissimo video, oggi soltanto chest Avengers. Mi raccomando andate subito nel negozio oggetti, non siate timidi, utilizzate Gio 12 Pro per fare tutti quanti i vostri acquisti e fottutamente ogni 14 giorni rinnovate il codice. Ci butteremo a Residenza del Ribelle perché so che in questa fortezza ci sono sicuramente delle chest Avengers. Altre armi e altre munizioni non posso prenderle, quindi soltanto quello delle chest. Buttiamoci subito anche perché vedo che siamo vicini fortunatamente. Dobbiamo arrivare prima degli altri perché se mi rubano la chest mi ammazzano sicuramente. Questo non ci piace affatto. Vediamo cosa c'è all'interno di questa chest. Tutte cose buone, abbiamo pure la pistoletta con la mira automatica che ci piace. Tanto uno scudone da 50 che ci spariamo immediatamente e poi abbiamo un'arma inutile che è questa qui. Facciamo una cosa che non si può fare illegale, prendiamo i colpi. Abbiamo presi solo 10. E adesso cerchiamo altre casse Avengers. Non vedo l'ora di prendere lo scudo di Capitano America perché con quello sono fortissimo. Anche con i guanti missilozzi, sparatozzi davvero. Ehi, fermati broom! Allora abbiamo un playerino che adesso muore immediatamente. Eh vabbè ma c'è questa ringhiera qua che non mi fa mirare. Guarda come muore, neanche lo devo killare. Killa da solo. Mi servirebbero i colpi in realtà perché ho 24, però non posso prendere neanche questo loot. Eccone un'altra, si parlava di lei. Vediamo cosa c'è all'interno di questa chest, esaminiamola. Ci sono le stesse cose praticamente. A parte questa pompa che neanche mi piace, però ha il mirino, quindi un punto in più. Ci facciamo questo bel 50 e scopriamo il nome di questa pompa che sono interessato. Si chiama fucile pesante sovrano. Un'arma che di sovrano non ha niente. Potrebbe erserci qualcun altro perché io sento del fottuto movimento. Un movimento sexy. Guardate questo fantastico gatto cosa gli faccio. Gli sparo in testa. C'è gente davanti a me. Ok. Abbiamo fatto un po' di danno. Probabilmente un player, anche perché vedo che non hanno scattato il punto esclamativo. Playerino che ce lo facciamo immediatamente. Sono senza build praticamente. Non c'è più la chest Avengers perché qualcuno si è permesso ad aprirla. Però sicuramente questo scaracca faceva parte della chest. E probabilmente anche questo bel pompa sostanziale. Quello che ci serve adesso che possiamo utilizzare sarebbe la Lamborghini. Che peccato. Guardate qui quanto rosico. Apriamola. Guarda quanto rosico. Quante belle cose che non posso prendere. Abbiamo individuato un furgone bello sostanziale. Andiamo sopra i player con questo veicolo per stirarli. Friggiamo qualche bel polletto nutritivo. Anche perché devo rubare assolutamente il disco Avengers ai guanti. E se io lo trovo li prendo. Perché queste cose derivano soltanto e soprattutto dalle chest Avengers. E poi non vedo l'ora di sforgiare le mie grandi abilità. Le mie grandi dodge. Sì. Allora apriamo quest'altra chest. Cose fantastiche. Abbiamo il jetpack che ci serviva. Non rinuncio al mio scaracca per queste doppie pistolette. Che non mi piacciono assolutamente. Però il jetpack devo dire che mi ha preso molto in questa season. In questa stagione Avengers. Potete volare. Potete fare anche il super boost. Il jetpack è quello che vi consiglio. Vado al centro della mappa. Così mi vado a cercare i fight. E almeno do una bella lezioncina a tutti. Eccolo qua questa brioche. Abbiamo una brioche qua sotto. E adesso killiamo con calma. Mi stava facendo impazzire questo pompo anche perché vedo che è molto lento a ricaricare. No non è qua dentro. Mi ha individuato. Mi ha individuato. Ragazzi mi ha individuato. Mamma mia io non so veramente cosa sono diventato. Il nuovo buga. Allora queste cose le posso prendere perché sono tutte leggendari e vengono dagli aveni. Avengers non mi interessa. Si prendono. Metto qua dentro così mi prendo pure i materiali che vanno bene. Anche le cure. Fatemi alzare queste sedie. Stiamo alzando la bandiera italiana. Abbiamo conquistato anche questo posto. Vediamo cosa ci ha droppato. Pompare leggendario che è sicuramente dagli Avengers. Qualche cura. Le cure. Anche le cure sono Avengers. Cioè guardate quanto sono fantastiche queste cure Avengers. Andiamo sopra questo polletto. Sta guidando l'auto. No. Anche lui ha lo scudo. Ma io il mio scudo. Lui mi fa. Questo polletto mi fa. Se lui mi prende da dietro mi fa. Mamma mia. Che paura ragazzi. No io le prendo lo stesso le cure. Queste cure sono Avengers. Vanno bene. Ok. Ho notato che questo player non ha il jetpack. Quindi potrei avere questo leggero vantaggio. Mancano quattro player signori a questa partita. Sparati queste band di Iron Man. E andiamo a prenderci la nostra vittoria royale. Giocando soltanto con la cesta Avengers. Abbiamo uno qua davanti. Che si prepara a scappare anche lui. C'è un player nutritivo che sta giocando con me. Ma non ha capito che io voglio soltanto killarlo. No è salito con me. Che bella sta kill. Mi piace tantissimo. Questo si può prendere. Questo è Avengers. Quindi va bene. Ho sparato a casa e ho preso 25 di danno. 50. 50. Basta un colpetto. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Ce l'avrò sicuramente dietro. Prendo tutto. Prendo tutto. Ho preso tutto ragazzi. Leva troppo la safe. Quanto leva? 400. Mamma mia ragazzi. Che paura. Eccolo lì. Molto fattibile. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Signori. Bruuuu. Questo video deve fare almeno almeno io dico mille like. Questa challenge. Gioco solo. Con cesta Avengers. Approvata. Io sono la persona più felice del mondo. Davvero. Fantastica questa partita nutritiva. Signori. Riscaltiamo tutti i regalini e tutto il pass battaglia che non ho acquistato. Mannaggia a voi non ho acquistato il pass battaglia. E quindi mi raccomando fatemi tanti regali su Fortnite. Gio 12 Pro in sovraimpressione. Mi raccomando. Anche nel supporto oggetti. Supporto un creatore. Gio 12 Pro mi raccomando. Che dire. Questo video è stato letteralmente fantastico. Uno dei miei video migliori di sempre. Anche perché si conclude in bellezza. E questo è proprio. Questo è proprio. Un culetto che esplode. Ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale. Giovi. Mi raccomando attivate la campanellina. Così vi arrivano tutte le notifiche di tutti i miei contenuti uscenti. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Noi ci becchiamo la prossima. Qui Giovi. Bella. Noi ci becchiamo la prossima.